C'è attesa in Romania per l'esito della riunione straordinaria del governo grindiano per discutere sulla revoca del decreto cosiddetto salva corrotti. Il provvedimento ha suscitato un'ondata di proteste in tutto il paese. Ancora venerdì almeno 170.000 persone hanno manifestato a Bucarest ed altre decine di migliaia altrove. Siamo a metà del guado, abbiamo quasi ottenuto la vittoria. Il decreto in questione depenalizza l'abuso d'ufficio ed altri reati di corruzione. Mi aspetto che ritirino il decreto e soprattutto che si dimettano dal governo perché noi non abbiamo più fiducia in questa gente, non abbiamo fiducia nei ministri e nell'esecutivo. Il modo in cui hanno agito è veramente un oltraggio. L'esecutivo a guida socialdemocratica è in carica da poco più di un mese ed è riuscito ad attirarsi gli strali dell'opinione pubblica con le proteste più massicce dalla rivolta contro Ceaușescu.